Una gita in moto tra i monti del Tirolo si è trasformata in tragedia. Valentino Tacchini, 68 anni, di Valbrona, è morto sul colpo a seguito di un pauroso scontro tra due moto nella zona di Reut, a nord di Innsbruck, lungo la panoramica strada del Fernpass che conduce a Garmisch e alla regione dei Castelli della Baviera. Il tragico schianto è avvenuto attorno alle 16 di sabato nel territorio comunale di Elmen. Da una prima ricostruzione, pare che il motociclista, intento in un'azzardata operazione di sorpasso nei confronti di un mezzo pesante, abbia preso in pieno Valentino uccidendolo sul colpo. Con il 68enne di Valbrona c'erano anche altri amici che sono stati tutti travolti dalla corsa del motociclista di cui non si conoscono le generalità. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite, sono state trasportate in elicottero agli ospedali Murnau e Innsbruck in gravi condizioni. Valentino Tacchini, che vediamo in una foto tratta dalla sua bacheca Facebook, era ex responsabile di una finanziaria Lecco, ha sempre avuto la passione per le motociclette e raggiunta l'età della pensione si divideva tra questi lunghi viaggi in moto e le due caffetterie e pasticcerie citerio di canzo ed erba di proprietà della moglie e della sorella. Lascia appunto la moglie e le due figlie.